Oggi parliamo di grandi famiglie del Trentino che portano qui a Roma un prodotto che è diventato ormai di assoluta eccellenza la grappa questo mondo grandissimo che si dischiude parlando di grappa che un tempo evocava scenari campestri che adesso è diventato un po' la protagonista dei salotti come è cambiato il mondo della grappa la grappa femminile oggi la grappa la beve più la donna dell'uomo e questo è una cosa bellissima logicamente anche la grappa è cambiata dagli anni dagli anni 50 60 oggi è un liquore bello saporito profumato che piace come dicevo anche al gusto femminile e diciamo nell'immaginario collettivo quando noi andiamo a comprare un prodotto da suo punto di vista la grappa in base a quali caratteristiche viene scelta ci si informa da un esperto oppure ci si fa un bagaglio culturale prima e poi si va a scegliere ecco come avviene secondo lei la selezione c'è abbastanza informazione no secondo me non c'è tantissima informazione e credo che anche queste serate servano per questo e oggi c'è un passaparola tra amici che l'hanno conosciuta che l'hanno conosciuta quando vengono in montagna tutta l'italia bene o male per fortuna noi ne siamo molto molto entusiasti passa in trentino è una delle cose che porta a casa come prodotto tipico è proprio la grappa allora una serata come questa dedicata a sorseggiarla a come sorseggiarla possiamo avere qualche anticipazione la grappa è un ottimo fine pasto va bevuta io dico sempre prima del dolce si sorseggia si può anche bere anche un po in una quantità superiore più che oltre che essere sorseggiata comunque un distillato bellissimo è un distillato che se è un distillato trentino in particolare ti lascia una bella bocca un bel sapore ti lascia il ricordo di quello che tu hai mangiato e ti fa digerire molto bene